Ciao, sono Andrea Gerrizzo, 25 anni e sono un imprenditore sociale. Vengo da un paesino della provincia di Enna che si chiama Valguarnera Caropete. Forse voi lo conoscete come Carrapipi. Sono il candidato al collegio uninominale Enna per la Camera dei Deputati con il Movimento 5 Stelle. Sono qui perché vorrei spiegarvi come si vota quest'anno. Quest'anno, guardate, è semplicissimo. Basta semplicemente sbarrare il simbolo del movimento e il voto va in automatico al collegio uninominale e in proporzione al plurinominale. Ci tengo a dire una cosa. So che non volete andare a votare. So che è veramente difficile pensare di alzarsi dalla sedia e andare a votare per tutto quello che loro hanno combinato contro di noi e per tutto quello che ci hanno lasciati. Cioè la miseria, la povertà ci hanno dimenticati. I nostri giovani non ci sono più. Sono andati fuori, studiano fuori, lavorano fuori e questo non va bene. Noi vogliamo che ritornino. Noi vogliamo che si ricrei un paese nuovo e che si possa ripartire. Allora io vi chiedo con tutto il cuore di andare a mettere una piccola X su questo simbolo. E basta, non dovete scrivere nient'altro, non dovete mettere preferenze. Dovete solo andare a mettere una X sul simbolo del movimento. Io vi ringrazio. Ringrazio tutto il mio collegio che mi sta accogliendo in maniera eccezionale. Il mio collegio comprende la provincia di Enna, comprende la parte occidentale della provincia di Messina. E vi dico, io ho girato tutto, mercati, attività commerciali e mi sto trovando benissimo. Tutti mi accolgono a braccio aperto e non posso che dirvi grazie. Mi raccomando, il 4 marzo andate a mettere una X sul movimento.